Temi di stretta attualità particolarmente rilevanti per questi territori e che si inseriscono in un filone che affonda le proprie radici negli anni 80 con le prime iniziative di studio, approfondimento, ricerca e confronto proposte dal Centro Studi Giuridici Città di Gubbio. Perché è da 30 anni che a Gubbio ci si confronta i massimi livelli su arte, cultura, ambiente e tutte le materie connesse. In questa occasione, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28, al Parco Telecappuccini, sarà protagonista l'agricoltura con il convegno dal titolo Sviluppo Agricolo, Protezione del Territorio e Produzione Agroalimentare in un Ambiente Tutelato. Tema che verrà approfondito in stretta connessione con il contesto internazionale ed europeo e con l'obiettivo di dare un contributo alla soluzione delle problematiche affrontate. Di continuità con le tematiche che hanno costituito sempre l'oggetto dei convegni organizzati dal nostro Centro Studi Giuridici Città di Gubbio. E direi in particolare in questo momento è l'importanza di una tematica che sta tornando di grandissima attualità al centro dell'attenzione anche economica, proprio perché la crisi che abbiamo vissuto in questi ultimi anni ha riportato in una posizione di assoluta centralità l'attenzione per l'agricoltura, per uno sviluppo diverso del territorio compatibile con la protezione dell'ambiente. Un contributo, quello del Centro di Studi Giuridici Città di Gubbio, affinché la città dei Ceri possa diventare un laboratorio nell'ambito delle tematiche ambientali, spunto raccolto dal Sindaco Stirati che ha sottolineato l'apprezzabile continuità e dimensione nazionale delle iniziative proposte. Come in questo caso con l'agricoltura, dall'innegabile importanza in ambito prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche con i segnali di speranza che arrivano da questo comparto. Tra le sessioni proposte, venerdì pomeriggio, dopo l'introduzione del Presidente del Centro Studi Giuridici Città di Gubbio, Sergio Matteini Chiari, si parlerà di agricoltura ed economia con il coordinamento di Pier Giorgio Lignani, magistrato Presidente di sezione del Consiglio di Stato. Sabato mattina sarà la volta di agricoltura, paesaggio e turismo. Coordinerà Giuseppe Severini, magistrato Presidente di sezione del Consiglio di Stato. Sabato pomeriggio sarà la volta di agricoltura, salute e benessere. Coordinerà Giovanni Galati, magistrato Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia. Di assoluto prestigio il tavolo dei relatori di questo convegno presieduto da Cesare Mirabelli, Presidente Merito della Corte Costituzionale. Taglio giuridico sì, matematiche affrontate di sicuro interesse per tutti. Un convegno che si inserisce in una linea che ormai da anni, da oltre un trentennio, vede Gubbio protagonista in materia giuridico ambientale, si tratta soprattutto questo di un convegno che è non solo di interesse per gli addetti ai lavori, per i tecnici del diritto, ma di un convegno che per le tematiche che vengono presentate e i relatori che ospita è di assoluto interesse generale. E quindi c'è un invito, ecco, voglio rivolgere un invito alla massima partecipazione perché è veramente di un grandissimo interesse, di grandissimo spessore questo convegno.